Amici del software libero open source, benvenuti o bentornati in questa 135esima puntata del podcast di Marcos Box. Rieccoci qui in questa nuova puntata del podcast di Marcos Box a commentare con voi le principali notizie dal mondo del software libero open source. Nel frattempo se sentite motociclette che passano o qualcosa che sembra un aereo, la prima è una motocicletta, la seconda è l'ho vecchio portatile con Windows che ho deciso di accendere, non accendo da un po' e sta installando gli aggiornamenti di Windows 10 e sembra che sta per decollare. Maledetto Windows. Sono passate quasi due settimane dall'ultima puntata del podcast di Marcos Box, chiedo venia anche questa volta come al solito ma avete visto, non sono stati pubblicati in tanti articoli quindi mi sembrava un po' superfluo fare una puntata settimanale commentando due notizie. Quindi ho preferito aspettare qualche altra notizia da poter commentare con voi. E apriamo questa puntata parlando di Fedora, il cui rilascio è stato nuovamente rimandato come dalla tradizione. Spieghiamoci meglio perché che cosa è successo e perché questa volta si è verificato un ritardo. Sapete bene che il team di Fedora è molto preciso, ci tiene a rilasciare la distribuzione soltanto quando questa è stabile ed è sicura al 100%, un po' come accade anche con altre distribuzioni storiche come Debian. Bene, il team di Fedora si riunisce normalmente qualche giorno prima del rilascio della distribuzione e fa un meeting chiamato GoNoGo nel quale analizza la distribuzione e dice, mette in punto, dice è stabile, è sicura, ci sono problemi, la possiamo rilasciare. E nel caso in cui ci sono incertezze da parte dei manutenitori di Fedora perché magari c'è qualche bug che non è gradito, che necessita ancora qualche giorno per essere sistemato, magari si scopre qualche vulnerabilità in qualche pacchetto, allora il team di Fedora da fumata nera e rimanda il rilascio della distribuzione. E anche in questo caso è successo, anche per Fedora 37 si è avuto una fumata nera e il rilascio di Fedora inizialmente previsto per l'inizio di novembre è stato rimandato. Questa volta il ritardo è dovuto a OpenSSL. Gli sviluppatori di OpenSSL hanno annunciato ad inizio mese una nuova versione di OpenSSL che include una correzione per un bug di gravità critica. Per questo motivo gli sviluppatori di Fedora hanno deciso di andare su sicuro e di, non sapendo perché, quanto questa vulnerabilità possa essere impattante per il rilascio di Fedora, hanno deciso di far sgrittare il rilascio. Adesso la nuova data papabile è quella del 15 novembre e se tutto andrà bene sarà rispettata. Ovviamente ci sarà il consueto meeting go no go qualche giorno prima per decidere se è sicuro rilasciarlo oppure no. Chi di voi aspetta Fedora per provare l'ultima versione di Gnome quindi dovrà attendere ancora qualche giorno. Restiamo sempre in ambito di distribuzione e passiamo a Ubuntu. Ubuntu 23.04 si chiamerà Lunar Lobster. Gli sviluppatori di Ubuntu hanno svelato tramite un enigmatico tweet il nome in codice della prossima versione della distro Ubuntu 23.04 Luna Lobster sarà rilasciata il prossimo 27 aprile 2023. Ovviamente essendo una release intermedia quindi non LTS sarà supportata per soli nove mesi dal suo rilascio quindi fino a gennaio 2024. Ovviamente è ancora presto per poter discutere in merito le novità che questo rilascio introdurrà ma possiamo fare alcune speculazioni come l'arrivo del Kern Linux 6.1 LTS, la nuova versione di Mesa la 23.0 e Gnome 44. Speriamo poi che venga incluso in questa nuova versione anche il nuovo installer, quello che stanno riscrivendo in Flutter e che magari introdurra qualche novità anche dal punto di vista dei temi, delle personalizzazioni, dell'aspetto. Perché andrebbe fatta anche una piccola svecchiata a mio avviso perché il tema attuale è un pochettino angosciante. Io non lo so, non lo sto più amando il tema di Ubuntu anche se inizialmente lo difendevo, secondo me era uno dei migliori temi. Però da quando hanno fatto questa scelta di legarsi ad Adua Ita, quindi di fare soltanto piccole modifiche al tema, non lo so, non mi agarpa più, che hanno fatto soltanto quello chiaro e quello scuro. Era tanto bella quella versione intermedia che c'era prima, non lo so, questi cavoli di ragazzi di Ubuntu che non vogliono, anzi questo è merito, anzi è colpa di Canonical. che sembra che non vuole più spingere tanto il lato desktop e si vede, si vede anche dalla mancanza di innovazione che c'è nel corso degli ultimi riasci, dalla mancanza di hype anche nei comunicati. Prima i nomi in codice delle versioni di Ubuntu venivano annunciati dal patron di Ubuntu, Mark Shatterworth. Adesso si lascia tutto ai manutentori della distro, quindi anche questo abbandono si vede anche da parte del dittatore benevolo di Ubuntu. Vabbè, bei tempi quelli di una volta. Abbiamo parlato di Ubuntu e come non parlare della sua derivata più famosa. Sto parlando ovviamente di Linux Mint. Ottobre è finito e come da tradizione Clement Lefebvre, di sicuro ci ho azzeccato la R perché è francese, quindi la mia R è molto francesizzante, quindi si cala bene a pronunciare il nome. Dicevo di dire, il fondatore nonché esegruppatore principale di Linux Mint ha pubblicato come da tradizione sul blog della distro il consueto recappone con tutte le novità dal mondo di Linux Mint, nonché alcune anticipazioni che ci aspettano nei prossimi mesi. La prima novità riguarda il backport di BluMan che è stato aggiornato alla versione 2.3.4. Tra le correzioni questo ha risolto anche un problema che causava la visualizzazione di due icone Bluetooth sul pannello di Cinnamon. L'altra novità che è stata introdotta riguarda una modifica che sarà ben accolta anche dagli utenti novizi, ovvero meno richieste di password. Praticamente in particolari condizioni non verrà più chiesta la password. Quali sono le particolari condizioni? Situazioni in cui non sono necessarie autorizzazioni amministrative. Ad esempio quando lanciamo Synaptic e il gestore degli aggiornamenti, ora queste applicazioni chiederanno al sistema di ricordare la password in modo da non dover inserire ogni volta che si eseguono più operazioni. Quindi anche questa è una cosa buona e giusta. L'altra grande novità riguarda poi l'arrivo del supporto a Flatpak all'interno del gestore aggiornamenti. Quindi adesso lanciando il gestore aggiornamenti di Linux Mint potremo aggiornare tranquillamente le nostre applicazioni in formato Flatpak. Come qualsiasi altro tipo di software supportato. L'altra modifica è una modifica visiva e riguarda il pannello di Cinnamon. Praticamente adesso è stato messo un separatore tra il lanciatore applicazioni e le icone che dà un po' di distanza, quindi migliora un po' l'impatto visivo. È una sciocchezza. Andatevi a vedere su Marcosbox c'è lo screenshot che vi fa vedere questa piccolezza grafica che però rende più gradevole il tutto. Le icone ovviamente vanno cambiate che fanno schifissimo. Poi è stata aggiunta una nuova barra cliccabile su bordo destro del pannello di Cinnamon. Barra cliccabile che cosa vi ricorda? Windows. Questa barra cliccabile può essere configurata oltre che per mostrare il desktop ma anche per mostrare i deskets, il selettore della gara di lavoro o il selettore della finestra. Quindi adesso non abbiamo più l'icona mostra desktop che abbiamo in basso a sinistra, l'iconcina, ma adesso abbiamo una barrettina laterale che è possibile richiamare più facilmente e che ci può essere configurata, come vi dicevo, sia per mostrare il desktop ma anche per mostrare i deskets, il selettore della gara di lavoro o il selettore della finestra. Ed è una cosa carina. Dovevano farla già da diverso tempo a mio avviso. Anche se è molto Windows style. L'altro cambiamento visivo riguarda le icone in Nemo. Prima quando selezionavamo un'icona, c'era un'icona all'interno di Nemo, veniva evidenziata non solo il testo, quindi il nome della cartella o del file, ma anche l'icona stessa. Ed era una cosa sgradevole dal punto di vista visivo. Adesso invece viene soltanto evidenziato il testo, quindi l'icona non viene toccata ed è più gradevole dal punto di vista visivo. Infine sempre in Nemo sono state fatte alcune modifiche all'icone, per esempio l'icona che rappresenta il desktop, quindi adesso la barrettina è sotto, quindi visivamente si riesce a capire mai più coerente. Poi al menu contestuale del desktop è stata aggiunta ad esempio anche un collegamento per accedere alle impostazioni dello schermo. Quindi piccole migliorie che rendono Cinnamon più facile da utilizzare, sia dagli utenti novizi che non. Vi ricordate di LXQT, il desktop environment basato su LXQT, nato dalla fusione di RazorQT e LXDE? Il progetto è ancora vivo e a testimonianza di questo è stata rilasciata una nuova versione, ovvero LXQT 1.2.0. Come il suo predecessore, questa nuova versione è ancora basata su LXQT 5.15, ovvero l'ultima versione LTS dell'EQT5. Fra le novità di questa nuova versione troviamo dei miglioramenti nel file manager, miglioramenti nel terminale QT Terminal, e è stato aggiunto poi un supporto iniziale alla sessione Wayland. Quindi anche LXQT inizia ad abbracciare Wayland, così come gli altri desktop environment più famosi. Per maggiori informazioni su questa nuova versione di LXQT vi rimando all'annuncio ufficiale sul sito di LXQT che trovate linkato nelle pagine di Marcosbox. E concludiamo questa puntata del podcast di Marcosbox con due editoriali scritti dal nostro caro amico Luca. Il primo editoriale al titolo Office, sicuro ti serva davvero? In questo suo editoriale Luca ci parla di Microsoft Office, delle alternative, dei suoi tentativi di immigrazione verso altre suite da ufficio, ci parla anche dei costi di Microsoft Office che come sapete bene negli ultimi anni è diventato praticamente un servizio in abbonamento. Microsoft Office offre dei pacchetti con costo annuale di circa 99 euro, grazie ai quali si può utilizzare Office. Offre anche servizi aggiuntivi come ad esempio uno spazio OneCloud da 1TB. Quindi però diciamo così sta spingendo Microsoft l'acceleratore verso tutti i servizi in abbonamento. L'avete visto anche nel mondo del gaming con l'Xbox che sta spingendo sul Game Pass. Quindi Microsoft ci vuole chiedere soldi annualmente. Questa è la politica di Microsoft nel corso degli ultimi anni. Tornando all'editoriale di Luca, Luca fa una serie di considerazioni finali e si chiede potrebbe essere questo nuovo corso di Microsoft potrebbe influire anche sull'adozione di Linux, sull'adozione di LibreOffice. Andateci a lasciare un commento visto che la discussione si è animata particolarmente quindi fatemi sapere che cosa ne pensate. Nel suo secondo editoriale dal titolo parliamo un po' di ARM e Luca ci va a parlare appunto di questi processori. I processori ARM che come avete visto prima adottati sui smartphone adesso stanno migliorando ad una velocità impressionante. E sempre più produttori stanno decidendo di investire le proprie risorse per portarci prodotti anche desktop equipaggiati con processori ARM. Abbiamo visto i timidi tentativi da parte di Microsoft quando ha rilasciato i primi dispositivi in crocio tablet, computer portatili equipaggiati con ARM che facevano girare Windows 8 e 8.1 se non ricordo male ed erano i Microsoft Surface equipaggiati con ARM. Poi ci sono stati rilasciati anche qualche altro modello, mi sembra recentemente anche c'è stato un altro tentativo a Microsoft di proporre prodotti di questo tipo. Anche partner di Microsoft hanno seguito Microsoft in questa sua avventura, mi viene da pensare ad esempio a Samsung e Microsoft Steph sa anche in questi ultimi giorni è diventata famosa una notizia riguardante il progetto Volterra di Microsoft cioè un mini computer ARM equipaggiato con processori Snapdragon di generazione 3 che al momento è soltanto un dev kit destinato agli sviluppatori che è stato appunto rilasciato agli sviluppatori per dire giocateci con questa architettura fatemi vedere applicativi in grado di girare, applicativi compatibili con questa architettura con la versione specifica di Windows per ARM. Quindi Microsoft sta spingendo, perché sta spingendo Microsoft? Perché avete visto che cosa ha fatto Apple con i suoi SoC M1 e M2? La casa di copertino ha spinto molto su questi processori ha abbandonato i vecchi processori, quelli Intel e sta spingendo tutto verso questi tipi di processori anche Google ha fatto alcuni tentativi con alcuni Chromebook con processori ARM quindi il futuro è ARM centrico perché questi tipi di processori sono molto prestanti scaldano poco, permettono di avere soluzioni fanless ed è una cosa buona e giusta. Noi, Pinguini, che cosa stiamo facendo? Stiamo guardando? No, perché non stiamo guardando? Ovviamente da Pinguini, Linux non è un produttore di hardware quindi non abbiamo la possibilità di proporre dispositivi con versioni di Linux per ARM però abbiamo visto che è possibile farlo abbiamo visto anche i recenti lavori di porting di Linux su SoC M1 tramite reverse engineering e stiamo vedendo che possiamo, possiamo farlo, possiamo adottarli siamo pronti anche sotto questo punto di vista è soltanto questione di volontà e di massa critica perché attualmente, ovviamente, la grande maggioranza dei dispositivi dei computer in commercio sono basati su architettura X86 e non su architettura ARM quindi quando ci sarà questo scoppio della bolla ARM da parte dei produttori beh, ci adegueremo secondo me anche noi Pinguini nel più breve tempo possibile perché sappiamo adattarci Orbene, con questa ultima notizia si conclude qui questa 135esima puntata il podcast di Marcos Box come sempre vi invito a iscrivervi sulle pagine social Facebook, Twitter sul canale YouTube sulla mia pagina personale LinkedIn sul mio profilo personale LinkedIn di seguirmi seguire il podcast di Marcos Box sulla piattaforma che preferite il podcast di Marcos Box è disponibile sulle principali piattaforme di podcasting c'è anche una skin per Amazon Alexa quindi se non volete ascoltarlo tramite Amazon Music potete ascoltarlo anche tramite la skin dedicata e vi ricordo soprattutto di seguirmi su Telegram dove sono adattivi tre canali un canale che può essere utilizzato come feed RSS qualora lo vogliate perché vengono postate soltanto le notizie abbiamo poi il canale della community di Marcos Box al quale vi invito a iscrivervi numerosi non si parla soltanto di Linux quindi c'è anche il cazzeggio libero c'è poi un canale dedicato alle offerte Telegram per supportare Marcos Box vengono pubblicate una serie di articoli con referral articoli scusate una serie di link con referral Amazon che trovate comunque pubblicato anche sulle pagine di Marcos Box qualora vogliate mettere a mano acquistando da quei link su Amazon supporterete il canale supporterete i blog vi ricordo infine che potete anche supportare i blog se avete bisogno di una VPN potete acquistare una VPN da Atlas VPN da Surfshark o da NordVPN utilizzando il mio codice referral e appunto aiutare a supportare il blog detto questo lunga vita e prosperità a tutti quanti ci riascoltiamo la prossima settimana con la prossima puntata del podcast di Marcos Box ciao ciao